Premetto subito che non sono un pro, sono un giocatore gold con delle conoscenze un minimo approfondite. Per questo non ritengo di insegnarvi la cosa più giusta da fare in questo gioco, ma vi insegnerò a giocare come gioco io, gold alto. E tutto quello che so grazie alle ricerche che faccio ogni volta per crearvi le guide. In questo modo ritengo di darvi tutte le potenzialità per arrivare dove sono io o almeno in gold 5. Buona visione. Ok, la registrazione è avviata. Adesso, mettiamo subito la visuale su di te. Se puoi metti in basso a sinistra la selezione per vedere solo la tua squadra e non vederle tutte e due. Poi, a seconda dei casi, metteremo magari la visione totale per vedere magari dove è il jungler avversario e tutte quelle cose. Allora, come prima cosa, tu stai giocando con Draven e Leona Support contro una Vayne e una Morgana. Allora, Morgana, penso che lo sai benissimo, che Morgana è un ottimo counter per Leona, per la meccanica dello shield, dello spell shield, che può bloccare tipo l'engage di ulti di Leona. E in più il CC di Morgana è molto lungo, il che può tipo bloccare Leona nel caso ingaggio, oppure può dare molto fastidio a te perché se ti prende sei morto. Allo stesso tempo, però, Vayne in lane non è molto forte, soprattutto contro di te, che con la E la deposizioni. Quindi questa è una lane che va giocata aggressiva, come praticamente tutte le lane di Draven, ma soprattutto devi sfruttare al meglio i minion. Cioè, tu sei libero di giocarti una lane in phase contro una Vayne finché ci sono dei minion in lane. Perché finché ci sono dei minion, se Morgana ti tira il binding e ti becca, vuol dire che hai fatto una troiata. Perché finché ci sono dei minion, tu basta che ci stai dietro. Però se ti tira una Q, sei già libero di schivarla andando dietro ai minion, sei parato dai minion, fa fatica a prenderti. Quindi non può proteggere la sua Vayne. Questa lane non si basa troppo sull'andargli addosso e cercare di fare tutto il danno possibile, ma piuttosto invece di negargli il farm. Perché il modo più facile per stare dietro ai minion e picchiare la dichiaria avversario è proprio avvicinarsi, tirargli il colpo quando lui cerca di farmare i tuoi minion. Quindi tu stando in mezzo ai minion, la colpisci, lei becca dei danni, poi torna indietro, ogni tanto non farma, perde dei minion, perde HP e quindi prendi piano piano il vantaggio. Per poi giocare invece più aggressivo e cercare le kill. Adesso, la prima cosa che abbiamo visto e che hai fatto benissimo a fare è stato aver pushato le prime due wave. Cioè, il mettere pressione con Draven è una cosa importantissima, hai fatto benissimo a pushare queste due wave. Una cosa che però devi sempre cercare di tenere a mente è che non le devi perdere le asce, le due asce quando sono insieme. Cioè, se tu le fai scadere, perdi tantissimo potenziale. Uno perché costano in mana, due perché dopo non ce le hai più pronte e te le devi rifare. Quindi, tipo, cerca di tenere d'occhio il cooldown delle asce, quello dell'attiva, oppure anche quello della spell, in modo da riutilizzarla magari per refreshare il cooldown delle asce. Lo sai, è vero che schiacciando di nuovo la spell refresh il cooldown? Sì, 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 anche se, sì, esatto. E se ne ho una, magari, la pressione è dopo un attimo due e quindi ne ho due attive. Perfetto. O anche quando ne hai due, se serve. Adesso aspettiamo un attimo. Vedi, ecco, i momenti... Eccolo, vedi, qui Leona ne ha approfittato subito, è stata molto brava qua Leona. E tu hai fatto subito un errore. Schiaccia P e metti in pausa. Allora, nel momento in cui Morgana utilizza la sua Q, lei non può più fare niente, ok? Cioè, l'utilizzo di Morgana è la Q per bloccare e lo Spell Shield per proteggere. Nel momento in cui lei utilizza la Q, ha solo lo Spell Shield. Lo Spell Shield da te dà problemi, come spell. No, perché è uno Spell che protegge da ICC e dalle Spell. Tu non fai danno di Spell perché fai danno fisico, quindi l'unico problema che ti può dare al massimo è il non poter utilizzare la E per deposizionare Vayne. Quindi nel momento in cui Morgana utilizza la Q su Minion, a caso, la Manca e roba del genere, tu devi subito, ma proprio subito, saltare addosso a Vayne e tirare almeno uno o due attacchi. Perché tu in quel modo vai a vincere subito il trade e a togliere del potenziale alla dichiaria nemico oppure al support, dipende quale dei due ti è più vicino, puoi anche saltare su Morgana se vuoi. In questo caso c'era Vayne molto avanti, la tua Leona se ne accorta subito, ha tirato la E, gli è andata addosso, l'ha ingaggiata e Morgana non ha messo lo Spell Shield. Questo è un errore comune, ad esempio, soprattutto in Silver e in Bronzo, le Morgane che giocano support non sanno mettere lo Spell Shield nel momento più opportuno, ok? Sono un po' lenta a metterlo. Quindi la tua Leona è riuscita ad ingaggiarla e ha stannato Vayne. Qual è stato il tuo errore qua? Uno, ci hai messo tanto a followare Leona. Quindi vuol dire che non solo non ti aspettavi un engage del genere, ma proprio non lo volevi fare, perché non era una mossa che tu contemplavi, perché ci hai messo tanto sia a comprenderla che a reagire. E questa è una cosa che non deve succedere, perché non devi giocare difensivo con Draven, ma devi prendere kill per snobollare e potenziarti. L'altra cosa è che non hai utilizzato la E. Cioè la E l'hai utilizzata dopo che sei stato sbalzato indietro da Vayne. Adesso la E è molto forte, perché non solo deposizione in un punto che vuoi te, ma slow anche, mentre invece Leona non slow, Leona stun e basta. Una volta finito lo stun, questi qui se ne vanno, punto. Quindi tu, quello che devi fare subito, appena vedi che Leona ha ingaggiato la stun e tutto, prima del livello 6, perché sennò rischi addirittura di toglierli dalla ulti e quindi non va bene, prima del livello 6, se lei li ha già ingaggiati, li ha stannati, la prima cosa che fai è avvicinarti, tirargli un attacco base e utilizzare la E come reset, in modo da sbalzarli, deposizionarli dove vuoi te e slowarli. Ok? In questo momento Vayne, mentre se ne andava, ad esempio, con lo spell shield, invece sarebbe stata slowata. Quindi tu saresti magari riuscito ad avvicinarti e tirare un attacco in più. Cosa che invece non sei riuscito. In più la E fa anche danno. Non tantissimo, ma comunque fa danno. Quindi devi contare sempre l'utilizzo dell'AE in questi tipi di matchup, soprattutto contro champion come Vayne, che non hanno robe tipo il salto di Tristana per andarsene. Quindi deve camminare. E se viene slowata, questa qui non cammina più, e gli tiri così tante pizze nel culo che andiamo a Napoli, tutti insieme, a pagare una pizza. Bene così. Capito? Ok, un modo... Adesso ti faccio invece una domanda. Tu, come la giochi la bot lane di solito? Cioè come colpisci Minion? Li colpisci a caso? Li colpisci quando ti vengono in range? Li colpisci quando hanno pochi HP? Di solito cerco di last hitare. A parte proprio di solito comunque, diciamo, miro un minion per fargli abbassare gli HP, così non rischio di avere più minion da last hitare velocemente e magari perderli. In quel senso. Ok, schiaccia un'altra volta HP? Sì. Allora, qui si è visto un esempio di trade fatto male. Ok? Leona ha ingaggiato Morgana, a caso, in un punto scomodo, perché Morgana era quasi sotto torre, quindi il follow up è praticamente impossibile, ed è tornata indietro. Tu, da adicherry buonanima che sei, hai seguito questo engage, sbagliato, e ti sei ritrovato a beccarti in faccia la Q di Morgana e la V di Morgana. Adesso, Vayne è stata una mongola, perché ti ha tirato un solo attacco. Vayne in quel momento poteva benissimo muoversi, andarti di fianco, schiacciare la E, stannarti al muro, e loro potevano ucciderti, o comunque forzarti il Flash e l'Ial. Quindi, adesso, io non ti dico di contare sempre che quello che c'hai contro sia un genio, del male, e ti faccia il culo. Però, ad esempio, questi trade, tu devi evitarli, perché, come hai visto, hai beccato metà vita. Cioè, tu prima eri full vita, avevi fatto un trade che, per quanto sia stato svolto non alla perfezione, era molto favorevole per te, perché tu eri full vita e l'adicherry avversario era metà vita. Adesso, tu e il tuo support vi trovate agli stessi HP dei vostri avversari. Cioè, sono uguali. C'è Leona che ha 100 HP in più, ma perché è Leone c'ha un fottio di HP. Ma avete tutti e quattro metà vita. Il tuo vantaggio adesso non sta più negli HP, sta solo nel farm. Oh, che non è male, però a te serve il vantaggio di HP con Raven, per riuscire a dare della pressure in lane. Quindi devi stare molto attento a questi trade sbagliati, perché se ci metti in mezzo te stesso, per cercare di renderli buoni, non finisce mai bene, diciamo. Ok, quindi qua, io avrei dovuto continuare a farmare, oppure... Allora, non dico continuare a farmare, però ad esempio, come follow up, poteva anche starci magari un tentativo di follow up. Il problema è che ad esempio c'erano quattro minion, di cui due sono morti, di cui uno era il cannone, e quello ci arriviamo dopo, lì vicino. I minion, se tu attacchi uno di loro, attaccano te. I minion fanno tanto danno in early, e quindi ti davano molto, molto, molto meno potenziale. Perché se tu avessi attaccato uno di loro, cosa che hai fatto, i minion si giravano verso di te, ti attaccavano, ti facevano un minimo 100 HP. Cosa che più o meno ti hanno fatto. Il problema cos'è stato? Che anche se tu hai un minimo di possibilità di follow up, se tu sei contro una Morgana, la cosa che non devi mai fare è metterti nello stesso punto dove c'era il tuo support. Tu sei andato verso Morgana, nella stessa direzione proprio, nella stessa linea retta, di dove stava tornando la tua Leona. Quindi Morgana ha tirato lo snare, e se non beccava te, beccava Leona, il che era un po' inutile, però gli faceva dei danni. Ma se non beccava Leona, beccava te. Quindi gli dai una possibilità sicura che la sua Q becca qualcosa. E quindi che possa essere più utile o meno utile, a seconda di chi becca fra i due due, ma qualcuno becca. Mentre se invece ingaggiavi da più sinistra, dove ci sono i suoi minion magari, lei o la tirava su di te, o la tirava su Leona. Poi magari era un problema ancora più grosso, perché ti snerava proprio lì in mezzo ai minion, beccavi lo stesso danno, e quindi ti ritrovai in una posizione ancora peggiore. Però è per farti l'esempio che tu non devi mai stare nella stessa linea retta di un altro alleato, quando c'è un nemico che ha uno skillshot del genere, e quindi che gli dai il doppio delle possibilità di prendere qualcosa. E' come se tipo ci fosse un blitzcrank che tira un grab, dove ci sono due di carry in linea retta, o uno dei due magari flasha, o forse flashano entrambi, però intanto ti becchi due flash invece che uno. Se invece uno dei due flasha, becchi quello dietro. Quindi, cioè, non ci perdi in nessun caso, hai capito? Sì. L'altra cosa è il cannone. Cioè, tu hai attaccato il cannone che è rimasto poco, e quello ti posso capire che tipo, tiri l'attacco, pensi di lastitarlo e non lo lastitti. Sì, ok. Però, cos'è stato? La cosa è che tu hai abbandonato un 50 gold, perché è morto il cannone più un altro minion, quindi diciamo 50 gold, 50-60, per fare uno barra due attacchi su una morgana e beccare la metà degli HP indietro come danno. Quindi, in questo modo, tu hai perso un sacco di gold, hai perso un sacco di potenziale, e l'hai buttato nel cesso tutto in un momento. Non so se te ne sei già accorto, ma siamo a 4 minuti e 30, e siamo già a tantissime, cioè tantissime, in realtà ti ho fatto due mini parentesi, ma queste due mini parentesi hanno già detto tanto su quello che puoi fare in lane. E con quello che ti ho appena detto, il non fare trade sbagliati, il puntare di più a essere aggressivo in dei momenti, guardare le spell dell'avversario e quindi capire quando il suo potenziale scende a seconda delle sue spell, ragazzi miei, questa roba qua ti porta subito in gold. Gold 5 è assicurato anche più sopra, soprattutto se riesci a rispettare questa cosa negli avversari. Ok. Qui invece ho visto un problema di minion, non serve stoppare. Il problema cos'è? È che non stai guardando, in questo momento ad esempio che hai perso dei minion caster, cosa attaccano i tuoi minion. Cioè non ci sei solo te in lane che fai danno ai minion, ma ci sono anche i tuoi minion, e devi guardare dov'è il loro focus. Se i tuoi minion, soprattutto quelli maghi che sono quelli che fanno più danno, stanno focussando un minion, vuol dire che continueranno a fargli danni nel tempo. E se tu utilizzi l'attacco su un minion per un tot di secondi, per in realtà una parziale quantità di secondo, tu non potrai attaccare un altro minion. Quindi devi stare molto attento al minion che viene focussato dai tuoi minion, in modo da non perderlo nel caso questi lo mandino a poca vita e poi lo lastittino. Perché è un errore grave di farming. Un'altra cosa che è molto sbagliata, diciamo, nel farming, è tirare attacchi al primo minion che ti si parla davanti. Ok, vedi, qua Morgana ha fatto tipo la cazzata più grande del mondo, questa qui è praticamente killa assicurata. In un modo o nell'altro, eh, tu hai finito il mana, sei tornato indietro, non capisco il perché. Qui hai, vedi, ferma subito, metti P. Allora, qui non solo hai usato il flash per tornare dentro, ok? Che è una cosa sbagliatissima. Perché il flash con una di carry aggressivo si usa in pochissimi casi, che sono tipo last hitting proprio di una kill lontana, che non ci riesce in nessun modo la roba. Ma utilizzare il flash per tornare dentro al fight da cui tu sei andato indietro, penso perché non avessi più mana. Esatto. Perché sei tornato indietro dal fatto che non avevi più mana, è la cosa più errata che puoi fare. Perché non solo tu hai fatto perdere questo fight, perché questo lo potevate benissimo vincere, te lo assicuro, perché stai usando il fervor con Draven, quindi hai dell'AD bonus. Che non hai tantissimi nirli, ma avrai 10-15 di AD in più di questa Vayne. Che non è poco. Non solo sei tornato indietro facendo perdere questo fight che era un potenziale fight vinto, ma hai sprecato una spell molto importante che ti darà, che di solito dà la potenzialità di pushare una lane in modo che se arriva il jungler tu hai il flash nel caso per andartene come sicurezza in più oltre alle ward. per cercare di rimediare all'errore che hai fatto. Il che non è una cosa buona, perché una volta fatto questo errore il fight era già perso, perché leone era stata focussata, c'erano i danni puri di Vayne che sono tanti, soprattutto su una leona che ha tanti HP a livello basso, e tu hai semplicemente sputtanato una spell che ha 5 minuti di cooldown, tipo, adesso tu c'hai la maestris, quindi hai 255 secondi di ricarica, quindi c'hai 4 minuti, e tu per 4 minuti non puoi flashare, e non solo, non hai neanche il lato, ok? Quindi tipo, se tu invece che flashare avessi semplicemente camminato in avanti e il lato, a quel punto leona si salvava perché poteva flashare, è stata una mongola che non ha flashato lei, anche, e tu non utilizzavi il flash, almeno, utilizzavi l'ial, magari con più HP ti sentivi anche un po' più forte e continuavi l'ingage su Vayne. Un'altra cosa che devi contare è che le maestris non sono inutili, cioè se tu non sai sfruttare il potenziale del fervor, non giocare il fervor. Per farti capire, il fervor, come abbiamo visto prima, come abbiamo fatto tutta la ricerca, è la maestra più usata su Draven, ok? Però se tu non sai che il fervor è forte quando viene staccato, che lo stacchi con gli attacchi base, e che quando sei a tante stack di fervor contro un champion che non ha il fervor, in questo caso mettiamo due di carry perché sennò sarebbe ancora più specifico il caso e quindi non andrebbe bene, se sei contro un'altra di carry, soprattutto come Vayne, in Irly, che lei c'ha il warlord, e tu hai il fervor, e c'hai le stack di fervor attive, tu hai del potenziale in più di lei per forza, a meno che non hai 0 mana, a meno che non hai, no, meno HP, no, perché abbiamo messo come condizione di avere gli stessi HP. Sei più forte perché hai più AD e quindi devi sfruttare questa cosa, cioè tu in questo momento a livello 4 hai 100 di AD col fervor. Io qui ho scritto, ho 100 di AD. Sì, adesso metto la roba, vado a guardare, anche Vayne aveva il fervor, ok? Vayne aveva il 100 di AD uguale al tuo. Adesso io ho fatto tutto questo discorso perché ero sicuro che una Vayne giocasse il warlord. Sono sicuro al 100% che tu non sapessi che lei avvesse il fervor staccato, quindi non sei beccato perché aveva il fervor staccato, ma perché non avevi mana, giusto? Esatto, no ma effettivamente io non volevo neanche che Leone ingaggiasse in questo, sinceramente, questo engage, io non l'avrei fatto, proprio perché avevo poco mana e non me la sentivo comunque di ingaggiare così. Dopo, se lei l'ha fatto, io appunto l'ho seguita proprio nel senso che al persisterla fermo, che dopo mi pingava, mi rompia le palle, ho provato ad aiutarla. Quel flash è stato sì, veramente inutile. L'ho fatto proprio così, nella disperazione di provare ad aiutarla per fare qualcosa. Allora. Non capisci il senso, non è tanto il resto. Dopo, ovvio che ho fatto una cazzata e non sono strano consapevole, ma c'è, sì. Ok, allora, devi contare come prima cosa che nel momento in cui Morgana viene così tanto avanti nella lane, proprio così, a caso, dritta, praticamente è una free kill, cioè è proprio come se ti dicesse ammazzami. Adesso, rimetto un attimo indietro, tu puoi anche non rimetterla. Nel momento in cui è stata ingaggiata dalla tua Leona, tu non hai fatto niente, non hai utilizzato la E, non avevi mana, va bene, ok, tralasciamo questa cosa. Comunque, hai continuato ad attaccarla, hai fatto bene. Ho usato la E, lei, quindi... Hai utilizzato, aveva lo spreadsheet, quindi hai detto non utilizzo la E, ok. Il mio utilizzo di E, quello che intendevo, era appena era stata stannata, quindi quando non aveva lo spreadsheet e quando potevi ancora usarlo, ma non importa. È secondario quello. Avevi due asce attive. Tu, di quelle due asce, ne hai persa una perché hai camminato male, che non deve mai succedere con Draven. Con Draven, al massimo, se perdi un'ascia senza che qualcuno ti abbia fatto qualcosa, è perché stai inseguendo qualcuno e l'ascia non rimbalza nel punto in cui tu stai correndo. Tipo, che rimbalza più avanti, ma non abbastanza, quindi dovresti tornare indietro e non va bene perché dopo perdi il nemico che stai inseguendo. Barra, oppure il fatto che tipo colpisci un nemico, l'ascia rimbalza in quel punto, però devi beccare per un motivo o per l'altro e quindi non la puoi prendere. E l'altra, infatti, mi l'hanno... E l'altra, invece, te l'ha fatta perdere Vayne, che ti ha sbalzato via. In questo trade, che era vinto, dal momento in cui Morgana ha trollato, perché quello lì è trollare, era vinto, e in più, cosa che ha aggiunto forza dalla tua parte, è che Morgana, più avanti del momento in cui sono io, poi vabbè, utilizzerà l'ignite su Leona, e non su di te. Quando Vayne ti ha sbalzato indietro e ti stava rimbalzando l'ascia sul terreno, figa, se usavi il flash per beccare quell'ascia, ti faceva un applauso. Perché se usavi il flash per prendere quell'ascia e uccidere Vayne, e dopo anche Morgana, perché ci saresti molto probabilmente riuscito, soprattutto con il reset della V, che tanto di mana, nei 19, che più o meno... Quella che mi ha fatto perdere Vayne... Quella che ti ha fatto perdere Vayne con la E. Se tu avessi flashato in avanti per prenderla, per me quello sarebbe stato un flashward, perché avresti ripreso l'ascia, che ti avrebbe portato a fare un autoattacco su Vayne, e lasciarla tipo 10 HP, e un altro per ucciderla. La tua Leona non moriva, e poi andavate su Morgana. Che potevate ucciderlo oppure no, molto probabilmente non la uccidevate perché aveva il flash, ma non importa. E questa è un'altra cosa importante. Siamo a 6 minuti e 20, abbiamo una terza pausa, e la terza pausa è come capire che cos'è e quando ci si pone davanti un fight vinto. Nel momento in cui uno dei nemici si butta in mezzo a voi, e non ha la possibilità di tankare quei danni, perché ad esempio è una Morgana, non è un Nautilus, e perde tanti HP senza che il suo AD Carry follow, senza che il suo AD Carry venga lì a farvi dei danni, quello è un trade vinto, è un trade, anzi è un fight vinto, perché la bot lane non si gioca 1v1, si gioca 2v2. Quindi se uno di loro due è a pochissimi HP, e voi invece siete a metà HP barra full, beh, praticamente non vi serve proprio, cioè non ci mettete un cazzo ad andare su Vayne, e fargli tutti gli HP. Soprattutto se è il support a pochi HP, l'AD Carry è facilmente focussabile, è facilmente shottabile. Poi se l'AD Carry ha 100 HP, cioè gli tira in attacco base, lo mandi a casa morto, sei ancora più contento. Però quando il support ha pochi HP, dà poca pressure alla bot lane avversaria. Quindi è facile che il suo AD Carry venga ingaggiato completamente, e il support ignorato, perché tanto non gli frega un cazzo a nessuno del support, l'AD Carry venga shottato, e poi la gente vada sul support. Una cosa importante che devi capire in Ranked, è non giocare per gli altri. Cioè in senso, tu non puoi migliorare se giochi come ti dicono gli altri, ok? Perché se giochi come ti dice il tuo support, che ti dice di andare dove tu non vuoi andare, e fare quello che vuole fare lui, il risultato è che, se va bene, sei contento, tutti felici, andiamo a casa. Se va male, dai la colpa a lui, pensi che quello che ti abbia detto sia sbagliato, e magari era la cosa giusta da fare, ma tu non eri pronto ad adoperarla nel modo corretto. Quindi la cosa più importante da fare nelle Ranked, come positioning, come decision making e tutto, è fare quello che pensi sia meglio per te. Vinci solo Ranked giocando in questo modo? No, in realtà ne perderai probabilmente forse anche di più all'inizio. perché se tu fai schifo a giocare, ad esempio, è un decision making di merda, è un positioning del cazzo, e Primer Ranked, se fai in questo modo, le perdi tutte, perché continui a posizionarti di merda, a fare quello del cazzo, perdete il game, e continuerà così, però fino a quando tu non impari, continui in quel modo. Ma impari molto più velocemente, facendo questa cosa, che a giocare, pensando, cazzo se non vado qui, questo qua mi flamma, cazzo se non faccio quello, questo qua mi flamma. Anche perché il pensiero di questo qua mi flamma, delle volte ti porta a fare delle complete cazzate, come è stato ad esempio prima, il cercare di aiutare Leona, perché aveva fatto un engage di merda la sottotorre, e probabilmente è stato uno di quei momenti, dove hai pensato, cazzo se non la follow questa qua, dopo mi dice che sono un figlio di puttana, e il capire il potenziale dei vari ad carry, a seconda dei loro oggetti. Quindi ad esempio, in questo momento, Vayne ha 2 kg, ok? Non è che è più forte di te, anzi, Vayne è livello 6, quindi è un livello sotto, in questo momento Vayne, per quanto abbia 2 kg e tu 0, è più debole di te, perché l'oggetto è quello di prima, questa Vayne in questo momento non è più forte di te, non ha più potenziale, non ha neanche il vantaggio di livello, come abbiamo già detto, quindi non è un problema. Diciamo. Bell dodge qua, Bell dodge, all'ultimo secondo, molto pericoloso, devi imparare un altro, bell'engage con squad di Leona, questa qui è una kill per forza, non puoi non farla. Ok. Ok. Ho capito. Viene così, eh. Allora, guarda benissimo quello che fa Leona. Tu hai 2 ascia in questo momento, il maggior potenziale di Draven. Stai attaccando i minion? Allora, quel rimbalzo di ascia non è casuale, il rimbalzo di ascia va dove stai andando tu col champion, oppure se sei fermo e attacchi in un punto. rimbalzi di ascia come quello non devono mai succedere perché tu in quel momento hai perso un'ascia che non dovevi perdere. Comunque, sei messo bene comunque, hai attivato di nuovo la Q, Leona ha beccato una ulti doppia e qui c'è il primo problema. Sei stato fermo. Lo vedi che sei fermo mentre attacchi? Hai perso un'ascia, hai perso un'ascia perché non ti sei mosso, hai perso l'altra perché ti sei mosso. Questo è il doppio problema più grave che c'è e questo è l'altro. Il flash su due avversari. Tu hai flashato in faccia a Vayne senza avere il potenziale per ucciderla. Perché lei è vero che aveva pochi KP ma come... Se avessi avuto le asce sarebbe morto. Se avessi avuto le asce sarebbe morto. Premi P. Sì. Allora Cos'è? Il primo problema è il non muoversi fra un attacco e l'altro. Quello lo devi subito subito mettere a posto perché con Draven soprattutto è una cosa fondamentale. La cosa più forte di Draven è la sua mobility. Non sono i danni è la mobility. Draven ha un sacco di mobility grazie alla V. Draven è fortissimo perché per quanto tu sai dove va sai dove rimbalzano le asce è tutto o riesce a farti un culo che non sai neanche come... Non sai come spiegarti perché ti arriva Draven ti tira un'ascia ti fa il suo 1200 di critico che è una marea però dici vabbè so dov'è gli tiro ai miei stun e cosa... No lui ti rischiva perché c'ha la V. Si muove. Se tu stai fermo tra un attacco e l'altro con tutti gli adicari è un errore. Uno perché non ti muovi e quindi sei libero di beccarti tutti gli skillshot che ti arrivano addosso. Due perché non cambi posizione mentre i nemici si muovono e quindi finirai per essere fuori posizione prima o poi. Tre perché non riesci dopo a seguire quello che stai inseguendo. Quando tu stai inseguendo un nemico se tu attacchi e aspetti di attaccarlo di nuovo e non ti muovi quindi clicchi diciamo su di lui col tasto destro e basta lui ti scapperà sicuro perché lui continua a muoversi tu invece ti muoversi di lui lo attacchi e finché nel tuo range attacchi. Se tu in quel momento ti fossi mosso vicino a Vayne o comunque verso destra o sinistra uno l'ascia sarebbe rimbalzata dove volete a destra o sinistra e l'avresti presa invece che davanti visto che stavi andando verso di lei e poi ti sei fermato. L'avresti ripresa quindi ne avevi ancora due. Come seconda cosa l'altra ascia che hai perso perché invece sei andato avanti nel momento sbagliato non l'avresti persa perché sarebbe stata sul tuo cammino e non avresti affatto questa figura di merda diciamo del dover flashare in mezzo a due nemici perché tu in questo momento hai flashato in mezzo a due nemici ok Vayne magari la uccidevi se se avessi avuto due Q ok se avessi avuto due asce magari la uccidevi Vayne ma Morgana la ammazzavi? Io penso di no io penso di no magari ci riuscivi ma io penso di no non con quegli HP adesso con Draven è molto utile il fare kill per kill cioè uccidere un nemico per poi morire con Draven è una cosa molto utile perché ad esempio tu becchi i gold della passiva e quindi hai più potenziale di lui se fate una kill per una kill però fare un flash del genere quando una kill è insicura perché come ce l'hai te Leal ce l'aveva anche lei questa è una cosa che devi pensare sempre a meno che tu non forzi Leal per dei poco rob del genere considera che quando tu hai Leal ce l'hai la di che il nemico quindi almeno sai che potenziale ha tu hai flashato su una vein che aveva un po' di HP ma di te ma che aveva anche Leal aveva Leal di fianco al suo support il tuo support era snerato e non sapevi cosa fare cioè gli sei arrivati in faccia non avevi mana non avevi spell non avevi Q non avevi il flash perché l'hai usato per flashargli in faccia hai usato Leal come l'ha usato lei il fervor ce l'avete tutte e due lei c'ha anche il suo support che ti attaccava e che ti ha messo la pozza di E sotto e in più c'ha anche i minion che continuava ad attaccare schiaccia meno ok questo cos'è ok questo è un gank di Master E sul gank di Master E ti do un solo errore essere andato vicino al muro ecco l'hai già capito cioè con Vayne tu non puoi fare una cosa del genere è una bestemmia perché cioè il suo support se ne era già andato a fanculo magari aveva visto Master E e tutto e roba però Vayne è stannato adesso non dico che potesse ucciderti anzi molto urabile che non potesse non puoi permetterti di essere stannato in quel modo totalmente a caso ad esempio lì la kill ha presa leone dovevi prenderla te allora una cosa che ho notato è che non ti sai ancora giostrare molto bene il rimbalzo delle asce non solo devi giocare guardando dove sono i nemici posizionandoti non solo devi guardare dove sono i tuoi e posizionarti di conseguenza non solo devi guardare dove rimbalza le tue asce ma devi anche farle rimbalzare nei punti buoni ad esempio qui sei morto perché sei andato a riprendere un asce e non deve succedere una cosa del genere cioè devi anche comprendere i momenti dove la tua ascia può essere ripresa o dove non può essere ripresa eccola qua Vayne oh mamma mia che bomba che mi sono preso qua ok l'engage che aveva fatto Vayne sotto torre cioè che ha cominciato ad andare su di te quando cazzo vi pareva mi sai dire a che cosa è dovuto in che senso mi sai dire perché Vayne tutto un tratto ha preso e ti ha ingaggiato senza aver paura cioè perché Vayne non prende adesso in questo momento che stai farmando viene sotto la tua torre a ucciderti perché erano in quattro perché erano in quattro ecco tu quando loro sono in quattro non ci devi essere bot devi andarti a fare un tè a casa e ad aspettare che finisca la pioggia perché quando arrivano in quattro bot è in pratica come quando vai su pornab e vai a cercare buccache non funziona cioè in senso non è una cosa molto piacevole dipende poi dai tuoi gusti qui Vayne è stata una mongola assurda e tu hai fatto un bel flash sullo stand di Morgana bellissimo lei perfetto giocata perfetta sinceramente il tuo flash è stato secondo me un po' troppo tardivo pessima pessimo re-engage il tuo flash secondo me è stato un attimo tardivo è stato molto bello da vedere sullo snare di Morgana però Vayne non ti ha tirato la E se Vayne ti avesse tirato la E che è molto simile a un attacco e quindi non te ne accorgevi saresti morto lì perché non avresti flashato saresti stato stannato e probabilmente Morgana ti avrebbe snareato lì e saresti morto comunque molto bello sullo snare di Morgana vuol dire che c'è dei buoni riflessi allora la build che ho visto più giocata e anche che preferisce il signor Tylerone è quella che su cui ho fatto il video un po' di tempo fa quindi con la danza della morte statica infinity quelle puttanate lì dovresti trovarlo il video il giocare un una build come infinity blood cioè startare di infinity e poi andare di blood non dico che non funzioni con Draven è molto forte la blood ha lo shield l'infinity ha il il critico cioè hai una D assurdo e sfondi il culo a chi ti pare il problema è che costa tanti soldi e tu sti soldi ce li hai adesso quindi sei fatto qualche kill fortuita ma non in tutti i game hai dei soldi del genere ok soprattutto se non farmi molto bene qui stai rimanendo molto indietro ma il fight non ha la ulti anche questo penso che tu non lo sappia però ad esempio sei rimasto indietro non so il perché perché questo è un fight dove potevi fare un po' di più molto bella l'hai su Katarina che ha stoppato la ulti ottimo perché vuol dire che ti aspettavi che Katarina ti tirasse la ulti lì molto bene molto bene è una cosa molto positiva il fatto che quando una Katarina cioè uno dei champion che di solito ti ingaggia e ti shotta soprattutto con la ulti quando ti ingaggia tu sei già pronto a bloccarla è molto positivo il fatto che tu sappia già come reagire adesso la musica di sottofondo è positiva però mi sa che mia mamma sta superando il limite quindi adesso vado ad ammazzarla continua a far andare il gameplay tanto se fai un buzz mamma potresti abbassare che stai registrando eh grazie allora Katarina non ti ho fatto niente hai ingaggiato Katarina con l'unica spell che ti salva dal farti shottare da Katarina cioè alla fine penso di averla pensata così molto probabilmente e penso di aver pensato che l'avessi già usata fatto che quindi mi sono permesso molto probabilmente ecco allora ti dico invece questo con Katarina non pensarlo un Katarina non pensare mai che ha utilizzato le sue spell non perché shotta ma per il fatto che la sua passiva dice che quando fa delle kill gli si abbassa il cooldown quindi tipo la maggior parte delle volte che Katarina usa le sue spell fa delle kill o fa delle kill o muore se la vedi lì in vita è molto probabile che la roba ce l'ha questa è una cosa che molto probabilmente in silver non ne abuseranno praticamente mai a meno che non c'è qualcuno che sta imparando a giocare molto bene a salire o qualcuno che sta smorfando difficilmente abusano della posizione degli altri ma se tu sei in bot lane adesso taccio un attimo per questo fight voglio vedere cosa fai allora in questo fight non hai fatto praticamente niente in questo fight hai fatto danni a caso su Malfit hai fatto danni ma infatti non è un insulto il fatto di non aver fatto nulla perché tu ti sei ritrovato davanti a Malfit cautato mi è stato molto buono che tu non abbia rasciato dentro insieme a Leona come un mongolo e quindi non ti sei fatto colpire da Malfit è stata una cosa molto positiva e poi Malfit ovviamente ha fatto quello che doveva fare cioè se hai tancato i tuoi danni tu non potevi andare dietro a Malfit a cercare di uccidere Morgana e Velco sarebbe stato un suicidio perché dopo Malfit cominciava ad attaccarti farti roba quindi hai fatto molto bene il non hai fatto un cazzo cioè non hai fatto niente era per il fatto che veramente non potevi fare niente e non l'hai materialmente fatto allora stavo dicendo il fatto che tu sei bot quando il Baron è up i nemici potrebbero sfruttarlo per fare il Baron perché soprattutto se salirai anche in gold che è il tuo obiettivo la gente comincerà ad avere più spesso diciamo la la consapevolezza che se tu sei sei da una parte della mappa non sei dall'altra quindi se tu sei in bot bot lane a farmare e sei la di carry quindi la fonte gli danno più alta del team avversario in teoria beh vesti qua si mettono a fare il Baron e arriva il tuo team a fermarli e a meno che non c'hanno qualche cosina si ritrovano già 4 contro 5 loro la di carry ce l'hanno e voi non ce la vede perché tu sei in bot da farmare c'è qualche problema di fondo capito quindi tipo quando ci sono wave in bot lane da farmare il Baron up adesso sto di nuovo zitto perché voglio vedere questo fight bravo che non hai seguito Mastery perché Mastery è un suicida cioè Mastery poteva farla quella cosa perché Mastery poteva far quei danni qui hai perso un'altra ascia ok allora stavo dicendo se tu sei se ci sono delle wave bot lane puoi cleararle puoi andare ad ucciderle soltanto nel momento in cui hai la consapevolezza che i nemici non facciano il Baron quindi sai dove sono i nemici o roba del genere che trovavano 3 contro 5 se volevano il che era molto pericoloso molto bene qui hai fatto questa kill su Vayne è stata molto buona uno perché hai tirato un attacco l'hai shottata ma è perché hai usato subito la E hai visto che hai utilizzato la E subito utilizzando la E subito lei anche se provava a scappare o se flashava era slowata dove cazzo andava da slowata la raggiungevi tiravi uno schiaffo in faccia l'ammazzavi fare danni per fare paura effettivamente ah gli fai sono ecco allora qui ti è andata veramente bene perché sei stato a un pelo dell'essere stannato la cosa che mi fa strano è che prima sei scappato poi non lo so ti sei rizzato il cazzo ti sei girato e l'hai distrutta ma più che altro cos'è il fatto che dopo che due volte che li faccio e critico e la sciolgo con un colpo dico cazzo però non posso perdere sto fight quello è il fatto cioè anche dopo dopo e ci ha detto dopo due volte di fila torno indietro e la sciolgo anche da di nuovo ed è stato così soprattutto una cosa che puoi fare invece che adesso guarda io guardo Vayne che ti stai seguendo eccolo 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 allora diciamo questa cosa poi praticamente chiudiamo nel momento in cui tu vuoi cercare di shottare Vayne quindi ti vuoi girare e ucciderla usa la E cioè tu invece che girarti a tirare l'attacco come hai fatto adesso mentre stai correndo indietro senza neanche cliccare per tornare indietro quindi cliccare su di lei proprio puntala E dietro e tirala Draven si fermerà automaticamente e tirala E indietro mentre fa il casting time tu la la deposizioni non ha il tempo di tirare la Q cioè in senso o la tira per schivare quello oppure deve aspettare un po' perché viene sbalzata una parte slowata quindi se tira la Q per schivare quello vuol dire che la tirata a destra o a sinistra per schivarla oppure dritto e se l'è beccata in faccia ma a quello non ci interessa e quindi deve comparire in un per colpirti ok se invece non la tira viene sbalzata figa ti giri e tira un'ascia in testa gli fai metà HP che invece gli hai fatto mentre diventava invisibile e se ti va bene gliene tira anche un'altra mentre tira la Q per diventare invisibile e magari la shotti anche e visto che la maggior parte delle vein non avrà il tempo di reazione cioè non avrà la capacità di reazione di tirare la ulti e schivarti la E se la tiri istantaneamente all'indietro mentre stai scappando molto probabilmente tu quella vein non gli facevi neanche attivare la ulti basta io non ho altro da dirti se hai altre domande dimmela sto bene ma bene o male hai risolto tutti i miei dubbi perfetto allora io chiudo qua il video ragazzi avete visto avete visto adesso facciamo una piccola premessa invece al pubblico a casa ragazzi avete visto com'era il coaching se volete il coaching è gratis di logitech è gratis se non hai sborsato neanche un soldo Paypal 130 euro ho finito questi soldi a casa e basta che me lo chiedete vi aiuto su qualunque ad carry e anche su tutti gli altri ruoli se volete ma non in specifico solo sulle cose basi di lol perché gli altri ruoli non li conosco come l'ad carry non mi sento di insegnarvi niente mentre invece sui ad carry vi posso insegnare come si gioca un ad carry o come si gioca ad carry proprio il ruolo e basta ragazzi niente il video è finito ciao a tutti